La novità di quest'anno è il liceo dell'arte, della musica e dello spettacolo, ma il liceo artistico Domenico Colau di Vivo Valencia mantiene comunque un'offerta formativa ampia e variegata. Nei giorni scorsi l'Open Day che ha consentito di accogliere famiglie e studenti provenienti da tutto il territorio provinciale e regionale. Tra laboratori e biblioteche, genitori e possibili allievi hanno percorso in lungo e in largo gli ambienti della scuola in un'atmosfera serena e per certi aspetti coinvolgente. Numerosi gli indirizzi attivi ed altri destinati a prendere presto forma nella struttura di piazza Martiri d'Ungheria. Architettura e ambiente, audiovisivo e multimediale, design, arti figurative e infine il LAMS. Un indirizzo tutto nuovo finalizzato a valorizzare la storia e la tecnica delle arti, offrendo possibilità in campo editoriale, televisivo, multimediale, organizzativo, museale e cinetecario. Per investire sulle proprie abilità, in una parola sola, sul proprio estro e soprattutto per guardare con fiducia alla prosecuzione del corso di studi, tracciando un iter capace di proiettare lo studente verso i più variegati campi della conoscenza. Una scuola che dà grandi opportunità agli alunni che si iscrivono al liceo artistico. Con i nuovi ordinamenti, soprattutto la scuola, inserita all'interno di un percorso che presenta e offre diversi indirizzi, laboratori, audiovisivo e multimediale, architettura e ambiente, design, grafica, arti figurative. Sono tante opportunità che oggi nella nuova società offrono anche grandi opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Noi puntiamo soprattutto a quella che è la valorizzazione delle eccellenze, la valorizzazione di quelli che sono i talenti. Ci sono tantissimi ragazzi che hanno grandi talenti, che possono utilizzare le loro capacità proprio per affrontare questo percorso di studi. Un percorso di studi che offre anche tanti sbocchi nel mondo lavorativo. La mavità di quest'anno è il LAMS, il liceo dell'arte, della musica e dello spettacolo. In che cosa consiste? Esattamente abbiamo pensato a questa nuova opportunità formativa declinando una nuova modalità di fare scuola, di presentare il liceo artistico attraverso le varie forme, letteratura, arte, musica e spettacolo. Sono quattro grandi opportunità che trasversalmente tra di loro si collegano e danno una opportunità formativa più completa. Noi riteniamo che attraverso queste opportunità i ragazzi possono al meglio verificare quelle che sono le loro potenzialità e metterle in campo in modo migliore al servizio di quelle che sono poi le loro esigenze anche di inserimento nel mondo del lavoro.